ciao ragazza ciao ciao che tempo c'è la sopra? leggeramente nuvoloso con precipitazioni siete anche voi le amiche? questa è un'altra parrocchia perfetto questa è la parrocchia di qua sì ok arriviamo arriviamo ce l'abbiamo giratemi ragazza di là di là di là grandissime da dove venite? da Casteldario come ti chiami? Zada ti sposi vero? eh sì soldino per il bacino no? e io adesso questo metto? ora che ti scambio anche la carta cos'è che stampi? ti scambio anche la carta ti do il resto ah proprio a tutta una pietoliera baggiano tutti i bianchi con i cazzi cos'è che deve fare? scuotere i cazzi perfetto ecco giustamente perché ha strane idee in testa questa esatto poi là dalle altitudini? eh dalle parti alte no non si ghiaccia no non si ghiaccia no? no no tutto a posto? tutto a posto sempre bagnati dove dove? le calecca di scorta è armata fino ai denti questa ragazza è più normale e non ce la scorta esatto giusto uno solo? uno solo? sì sì e Dio grazie era adesso sì pure Dio grazie ah per comprare le calecca che amiche che amiche vedi penso adesso l'abbiamo sbrodolato la raccolta fondi per i le calecca della sposa amici da casa se volete fare una donazione giusto? esattamente fammi un messaggio un video messaggio allora ragazzi se volete donare anche voi un euro alla società oppure 5 per mille lo accetto vivamente per pagare il matrimonio accetto anche quello no no era per i le calecca che diceva ma no vabbè prima quello e dopo i le calecca li prendo andando quelli ah ok quindi questo è un video messaggio per sensibilizzare il pubblico a casa? esatto così me li sensibilizza tantissimo ragazze venite a sensibilizzare la sposa venite venite ragazze ragazze abbracciamo la sposa abbracciamo la nostra la nostra sposa sensibile venite venite donate per la sposa sensibile sposa sensibile probi questa è tutta allora sono ecco ecco don av us fires iac Grazie a tutti